Iniziative culturali ma anche lavori pubblici. Per stilare un quadro sulle attività messe in campo dall'amministrazione comunale di Ripatranzone sono oggi i nostri ospiti il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi e Stefano Fraticelli, presidente del Consiglio Comunale delegato al turismo. Allora Stefano, partiamo dalle iniziative in programma anche per queste festività natalizie ormai alle porte. Sì, è in corso la realizzazione del calendario delle manifestazioni natalizie, è un calendario ricchissimo che andrà ad imprezzosire la nostra proposta di eventi culturali. Come da tradizione sarà un calendario che abbraccerà molti ambiti, quindi l'arte, la cultura, il teatro, la musica. Ripatranzone, città di arte, storia e cultura, si distingue sempre per il proprio calendario delle iniziative che non è soltanto stagionale ma si protrae per tutto l'anno. Non a caso in questo periodo abbiamo un'iniziativa molto importante che è l'iniziativa giunta alla ventottesima edizione Le Vie di Bacco, la passeggiata enogastronomica che coinvolge sette ristoranti del territorio che propongono sette menù degustazione abbinati ai vini di Ripatranzone. Sappiamo che Ripatranzone è città del vino oltre ad essere anche città dell'olio, quindi teniamo particolarmente alla valorizzazione dei nostri prodotti tipici e in particolare del vino. Ecco Sindaco, invece parliamo proprio delle opere che state portando avanti. Sì, in questo periodo stiamo entrando un po' nel vivo di tutto quello che è stato seminato nel precedente mandato. Praticamente iniziamo adesso ad attuare tutti i programmi relativi e progetti relativi al PNRR. Di recente si è stata anche l'approvazione di un progetto per la viabilità, in particolare con Trata Santo Stefano, che prevede oltre il rifacimento del fondo anche la reggimentazione delle acque, elemento molto importante su quell'asse viario. Stiamo procedendo ancora per quanto riguarda il distributore di carburanti. Giorni fa la notizia che è stata realizzata tutta la campionatura del terreno e abbiamo già acquisito due pareri di due enti preposti. Quindi raccolti questi ultimi dati si procederà all'approvazione definitiva dell'esecutivo e all'affidamento dei lavori. Siamo all'opera perché stiamo adesso scaricando a terra tutto quello che abbiamo progettato e continuiamo ancora a progettare. Il nostro modus operandi è quello di portare avanti delle progettazioni anche tramite l'Ufficio Lavori Pubblici, Parimonio e Manutenzioni, che ringrazio unitamente al Consigliere Ricci, Delegato ai Lavori Pubblici, di progettazioni su situazioni che richiedono attenzione nel nostro territorio, rendendole così disponibili qualora si presentassero subito opportunità di bandi e quindi di potenziali finanziamenti che possiamo acquisire perché a livello con copertura di bilancio è sempre difficile e complicato andare avanti per una realtà come la nostra. Abbiamo approvato anche pochi giorni fa un piano asfalti per il centro abitato, in particolare il centro storico e l'area limitrofa al centro storico su delle zone che da tempo non venivano più interessate a questi tipi di interventi. Quindi ricreare un po' una viabilità interna al centro abitato, non solo in una questione di sicurezza ma anche di decoro, soprattutto nelle aree di forti interessi che possono essere la zona del Colle San Nicolò o comunque Viale Cellini, che è un viale a ridosso del centro abitato che porta anche ad attività commerciali con una discreta densità di residenti. Quindi siamo al lavoro su diversi fronti, in particolare quello del PNRR, la notizia leggero stamattina anche dei fondi dell'Europa che ha dato l'ok. Quindi noi siamo interessati su tre ambiti di intervento, il mattatoio dove abbiamo già l'ex mattatoio, dove sorge la Casa della Musica che ha già visto l'affidamento dei lavori, il Palazzo del Podestà e Piazza Donna Bianca dei Tarroris. Siamo all'overo. Bene, bene, allora io vi auguro buon lavoro e a voi buon proseguimento su Radio Azzurra. Grazie a tutti.